Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Non so chi fosse. E poi del nostro protagonista che qua vedete sullo sfondo. Che gioco è Beyond Galaxyland? Ve lo specifico subito perché guardando magari qualche immagine potreste pensare a una sorta di Starbound o Survival. Non è questo. È un gioco che si ispira fortissimamente agli sci-fi film, sci-fi movie degli anni Ottanta. Un po' anche Stranger Things e tutte queste cose. Harald ha una sua ambientazione con una terra che sta per essere distrutta dalla fine, cosiddetta alla fine. E lui si ritrova con il suo compagno il porcellino d'India che viene trasformato da questi alieni che rapiscono lui e sto porcellino. E gli dicono no guarda tu sei tra i pochi prescelti terrestri che abbiamo deciso di salvare. E quindi vi ritrovate in un mondo dove dovete combattere, dove dovete esplorare diversi pianeti di questa ambientazione. E ci sarà anche una meccanica un po' stile Pokémon perché potrete collezionare e utilizzare in combattimento gli alieni che trovate. La grafica è pixelosissima. Vi ho spiegato a breve linee l'inizio, la prima mezz'ora, ma in realtà ha molti più dialoghi. Ha più di 50 colonne sonore che spaziano dall'hip hop, l'elettronica, il jazz, il piano, insomma ce ne sono tante. E qua ci ritroviamo su questo pianeta dove il nostro porcellino d'India che adesso è insieme a noi in gruppo e questo robottino ci stanno scortando verso la prima città. Qua abbiamo dei checkpoint dove possiamo salvare la partita e craftare elementi. Si gioca col pad principalmente. Tenendo premuto la croce direzionale vediamo i punti abilità perché il combattimento per quanto qui possa essere anche a combattimento, vedete, in tempo reale, premendo il grilletto. Il combattimento poi effettivamente è a turni. Quindi abbiamo l'equipaggiamento con Boom Boom con la pistola laser l'hanno data a lui. La cosa divertente è perché i dialoghi sono tutti tradotti in italiano, tradotti piuttosto bene. E gli alieni hanno detto guarda abbiamo trovato anche lui con te e ci siamo accorti che aveva un deficit di intelligenza e per forza era un porcellino d'India e lo hanno evoluto. E lui al momento non parla ancora, è abbastanza spaventato. Abbiamo le missioni con le secondarie e le primarie, insomma avemo un sacco di roba da fare e un sacco di menu anche da sbloccare. Abbiamo un inventario con la costruzione, gli oggetti delle missioni, ci hanno dato un oggetto multifunzione, degli occhiali dell'esploratore e dei consumabili. I punti azione che vedete qua, che sono quei dieci, li ottenete combattendo normalmente e quando ne avete abbastanza potete usare le abilità in combattimento. Il gioco è pieno di intermezzi di questo tipo, di dialoghi, è molto molto curato. Per essere un indie è veramente curato. Abbiamo trovato il nostro socio. Ok, Bum Bum, metti giù la pistola. Ebbene, non sappiamo come reagirà, è sempre stato un... Ok, questo è... Attento Bum Bum! Ok. Aspetta Bum Bum, non mettere via la pistola, ti servirà. E abbiamo il combattimento, che andiamo a provare subito. In questo caso... Vuoi vedere il tutorial del combattimento? Abbreviato? Sì, non conosco il genere. Dai, fatemelo vedere almeno... Modalità battaglia. Mi ha già fatto combattere nel tutorial senza spiegarmi nulla? Va bene. In sintesi, qua i turni vengono decretati dalla ruota del tempo di ciascun membro del gruppo. Quando la ruota del tempo di un membro del gruppo è piena, quel personaggio può fare la sua mossa. E quelli verdi sono i punti salute. Ci sono anche i punti evocazione, detti PE. Ne parleremo dopo, che sarà quell'evocazione che vi dicevo. Ora, le cose si fanno interessanti. Vedete, lì ci sono i punti abilità, o PA, come abbiamo... vi ho appena finito di dire anche questo. Sono condivisi tra tutti i membri del gruppo, questo potrebbe essere un problema. Per riempire punti abilità, ogni membro vengono assegnati i punti di turno all'inizio di ciascun turno. Possono attaccare i nemici un numero di volte pari al numero dei punti di turno a loro assegnati. Che sono lì in alto. Vedete, potete attaccarli tre volte. Il bello è che ha una sorta di combattimento anche in tempo reale, perché se vi attaccano potete, premendo il momento giusto il tasto del pad, parare. Cioè, il sistema di perri. Ok, in altre parole, se stai cercando di accumulare punti, servirebbe a terminare il turno, anziché rischiare di perdere punti attaccando. Se hai già iniziato ad attaccare un nemico, ma vuoi salvare punti di turno, puoi fare a nulla, perfetto. Dai, proviamo. Proviamo a usare i punti di turno per attaccare il nemico. Ok, tocca a noi. Vedete, non abbiamo abilità, non abbiamo nulla. Possiamo usare oggetti, finire il turno, ma in questo caso noi attacchiamo il cucciolo di Raptor. Lo attacco, vedete, lui premo A, gli fa un attacco. Posso farne tre. Due. E ho accumulato un altro punto. Tre punti. Ok, consumati tutti. Ora tocca a lui. Lui può attaccare con la pistola. E abbiamo dieci punti adesso. Messo il turno del nemico, il nemico attacca, potremmo difenderci. Dovremmo toccare parata. Se esegui una parata in tempo subirai molti meno danni. Se sbagli la parata perderai due punti di abilità. E questa è molto bella come combattere, come aspetto. Vediamo, memorizzare gli schemi di attacchi dei nemici può essere fondamentale. Cioè, è a turni, ma dovete stare comunque attenti. Attacchi dei nemici. Ah, controllo tutti i nemici, tutti gli amici, insomma, tutto il gruppo non possono essere parati. Giustamente io adesso devo premere. Ho parato un po' troppo in anticipo. E ho perso solo un punto. Ho le abilità? No, non posso usare nulla. Quindi attacco ancora il cucciolo di Raptor. Ha perso, perfetto. Abbiamo vinto. Abbiamo fatto esperienza perché poi si salirà anche di livello. Abbiamo alle nostre spalle altri due Raptor. E si invertono i campi di battaglia. Io vi garantisco. Spero... Uh, non ho parato. Spero vi incuriosisca questo gioco perché credo sia assolutamente impossibile. È veramente impossibile capire com'è questo gioco guardando semplicemente questo video. È un gioco che va approfondito per diverse ore. Resta comunque non un survival. Resta un gioco di ruolo, all style e un'avventura. Parata. Parata. Ok, premuto il momento giusto. Eh, il bonbon qui non è messo proprio benissimo. Bene, io continuo ad attaccare ma non mi fa usare le abilità. Ah, l'ho mancato. Bene. Beh, lui fa un botto di danno però. Io non sto proprio benissimissimo ma... Attacchiamo ancora. Uno. Ok. Abbiamo vinto. Non è neanche noioso il combattimento a turni per quanto sia un po' anacronistico oggi perché comunque c'è una sorta di interattività anche nell'attesa, nei turni, negli attacchi, le parate. Insomma, ci sono diverse cose. Abbiamo un boss e tenete conto che ora siamo su un pianeta, c'è tanta vegetazione. Io ho passato la prima mezz'ora su una base aliena, una parte sulla Terra e una parte nello spazio. Quindi si guiderà anche una navicella, si andrà su vari pianeti in questa esplorazione di questo nuovo mondo parallelo, non parallelo ma alternativo, insomma, dove i terrestri e alcuni selezionati sono stati messi in salvo dalla fine della Terra che è avvenuta. Mi sto già divertendo, voi umani, vi ficate sempre... È molto bello anche come hanno trattato i dialoghi perché ci... Gli alieni... C'è proprio una lore dietro e gli alieni ci vedono in un modo molto divertente e non sono dialoghi buttati lì, cioè potevano buttarti subito nell'avventura e poi invece c'è tutta una parte di dialogo iniziale che ci immerge nella lore. L'esplosione di rabbia, ne ho sentito parlare. Vedete quanto è profondo? Ci siamo arrabbiati, gli ho detto, ah sì, ho sentito parlare. Usiamo la levetta a sinistra. Allora, quando si trovi davanti a uno di essi, usa la radar. Ok, no, aspetta, proviamo il forziere. Abbiamo il tempo di gioco. Allora, andiamo un attimo. Qua cos'è? Ma è entrato un'altra roba. No, non so dove devo... No, non so dove devo andare. Si sale da qui, forse, perché vedo che c'è una freccia che va su sì. Ah, sì, perché qua c'è... Ah, si passa di là. In 2.5D. Bellino, perché qua si esce. E poi andiamo avanti. Bello, c'è un salvataggio. Facciamo un save. Silenzio. Scommetto che non vuole fare altro che mangiare, mangiare, mangiare. Senti, la faccenda è così. Finché sono qui, posso scattare delle foto e scansionare qualunque creatura vivente o cosciente in cui ci imbattiamo. Guarda. Tieni premuto il grilletto sinistro per attivare la macchina fotografica. Ok, posso puntarlo. E facciamo la foto. Perfetto, cucciolo di raptor. Questo secondo me potrebbe essere un semi capolavoro, tipo dei The Diver o The Edge, insomma. Potrebbe rimanere ricordato, diciamo, quest'anno questo titolo, perché sembra fatto veramente bene. Quando dovremo affrontare questi piccoletti in battaglia potremo vedere la loro salute. Ah, ok, praticamente facendogli la foto li abbiamo nel codex e possiamo vedere. Puoi sfoderare quella spada anche fuori dal combattimento. Sono consigli molto utili per la sopravvivenza. Proviamo a prenderlo alle spalle, vediamo. Uso il grilletto e lo colpisco. Ah, praticamente inizia la battaglia, inizia magari con uno svantaggio. C'è praticamente con meno vita. Quello che puoi vedere... Ok, l'avevo fotografato e scansionato, quindi posso vedere. Questo è importante ricordarsi sempre di scattare una foto. Ah sì, vedete che ha meno vita. Sì, è già ferito. Se riesci a infliggere danni sufficienti puoi sconfiggere i nemici prima che inizia la battaglia. A questo punto, in questo modo, potrei fare incerta delle risorse dei nemici più deboli. Ma ricorda che i punti esperienza si ottengono solo in battaglia. Ok. Proseguiamo. Cattura dei nemici. Dog può catturare qualsiasi nemico che incontra. Più il nemico è ferito, maggiori sono... Ok. La difficoltà di cattura cambia in base al nemico. Dopo aver scattato la foto di un nemico, potrei vedere la difficoltà di cattura nella sezione dell'album fotografico. I tentativi falliti aumentano la probabilità del successivo. Perfetto. L'impostato è più al massimo, quindi prova pure a catturare questo raptor con l'abilità cattura. Ok. Dai, proviamo. Gli vorrei fare... Gli vorrei fare però... Ah no, non posso attaccare. Devo fare la cattura per forza. Va bene. Quindi dobbiamo colpirlo, riaccumulare i punti di abilità e provare a catturarlo. Questo è un plagio, ma non è che puoi adesso impedire a tutti i giochi di permetterti di catturare qualcosa. Abbiamo catturato il cucciolo di raptor. Per notare, l'uso di questa abilità ha consumato punto di abilità del gruppo. Catturati sono dette evocazioni che possono essere assegnate in membro del gruppo. Una volta equipaggiate, le evocazioni possono essere lanciate per eseguire abilità che, da un punto di vista funzionale, assomigliano agli incantesimi di altri giochi. Per esempio, questo cucciolo è un elementale rosso. Tutte le sue abilità infliggono danni di fuoco. Ti differenziano dall'abilità e dall'attacco primario di Dohlt, in quanto sia gli attacchi principali che le abilità dei personaggi giocabili sono puramente fisici e non hanno alcun attributo elementale. Ah, carina come cosa! Quindi la magia è sotto forma di evocazioni di queste catture che facciamo. Quindi l'attacco bot di livello 2, questo è un altro, è un incantesimo di fuoco, infliggerà danni gravi ai nemici di tipo terra o elementali verdi. Perfetto, lanciano un'evocazione, ok. I punti di evocazione sono limitati, possono essere ripristinati con oggetti o tramite punti di salvataggio. Ok, quelli non si rigenerano i punti di evocazione. Ne ha uno in più però rispetto a noi, boom boom. Ok, adesso subito un altro. Lo usiamo, dai. Quindi non lo... Allora, evocazioni, cucciolo di raptor, incoraggiamento, aumenta temporaneamente la forza del membro del gruppo. La forza aumenta a me. Prima di evocare il tuo nuovo amico, non dimenticare di indossare gli occhiali esploratori che ti ho dato prima. Lo dico per te, con il raggio fotonico fa male alla vista. Ah, li hai indossati, ok. L'hai evocato. Puoi vedere che fa già i nemici catturati nel menu evocazioni. Inoltre, ok. Le evocazioni non hanno bisogno di combattere per guadagnare esperienza. L'ottengono esattamente come i membri del gruppo, ok. Alcune evocazioni devono essere fatte e salire di livello prima di poter utilizzare le loro abilità. Ok, questo è tutto. Prendi nota, si adatta che boom boom hanno un'uova abilità. Bocca al lupo, ok. Adesso combattiamo, quindi. Ah, non ho parato, ho dimenticato. Allora, io posso evocare, no. Perché non ho punti. Abilità? Cattura? No, non lo cattura. Taglio poderoso? No. È un gruppo di nemici, si usa soprattutto, vai. Ok. Può fare un'evocazione, cucciolo di raptor. Ah, mi dà solo temporaneamente. Ok, non fa danno, in questo caso ci ha detto una cavolata nel tutorial. Tenere abbraccio, no. Facciamo un attacco normale con la pistola laser, va. Ripara. Bene. E lui ha il bonus alla forza. Direi che non evochiamo niente. Gli do l'ultimo colpo, perfetto, dai. Vittoria. Abbiamo fatto il livello, tutti e due. Raggiunto il livello 2, sale. Punti salute salgono, la forza sale, l'intelligenza sale. Boom boom ha raggiunto il livello 2, anche lui. Stessa cosa. Andiamo avanti, prendiamo il loot e proseguiamo con questa aventure. Si colpisce un po' sullo stile di... Ah, doppio salto, perché mi hanno aggiunto che il doppio salto. Sullo stile di dragon quest. Praticamente colpite e partite con un vantaggio nel combattimento. Ok. Tanto non lo usiamo perché... Io vorrei usare l'abilità sua, tenero abbraccio. No, ripristino i punti, no. Evocazioni, no. Io vorrei usare... Adesso... Boom boom attacca. Ok, fa un bel danno. No, voglio usare i punti di da... Ok. No, voglio usare... Ho visto che è un'abilità di... No, cattura no, taglio poderoso. Fa danno a tutti e due. E usiamo i punti di abilità. Tanto questi si rigenerano. Faccio un bel danno. Perfetto. E adesso... Il nostro boom boom finisce l'opera. Perfetto. È bello. È bellino perché i caricamenti non sono eccessivi e non c'è lo stacco dall'immagine, diciamo, del gioco che state giocando adesso al combattimento, come fanno altri giochi dove parte la musica, carica, esce lo scenario, compaiono i personaggi. Qua è nel luogo dove vi trovate e parte il combattimento. In questo caso possiamo andare a riprendere punti di evocazione. Non abbiamo ancora, vedete, la possibilità di costruire. Ci saranno oggetti andando avanti. Qua possiamo colpire, andiamo avanti. L'ambientazione è veramente bellissima. Calcolando, come vi ho detto, che prima era totalmente diversa. C'è un... Vediamo se posso saltarlo. Sì. Abbiamo del loot qui. Non credo che abbia molto senso saltare i combattimenti. C'è qualcosa... Uh, sono caduto giù. Sono caduto. Uh, non dovevo cadere. Prima di tornare indietro... Ah, aspetta. C'è qualcosa qua. Oro e zanna. Ma non... Non riesco. Ho qualche problemino a saltare. Poi, vabbè, in queste fasi platform si vedono un po' i limiti, perché non è proprio un po' legnosetto. Però... Ah, perché scivola. Ecco perché. Ok, premiamo su, passiamo di là. Perché scivolava. E qua si torna di qua. Bellino! E faccio una foto. Gambe lunghe. Allora, attacchiamo, lo conquistiamo, questo qui. Lo catturiamo. Allora, io devi fare un po' di danno. Con Dog... Primo paro. Ahia, tira il calcio! Allora, colpisci il gambe lunghe senza ucciderlo, possibilmente. Tu attaccalo con la pistola. Ok. E adesso pariamo. E gli darei ancora un colpo. E adesso lo proviamo a catturare. E evocazioni, no. Eh no, no. Ah, lo posso prendere solo io. Vabbè, fargli un colpo anche tuo. Adesso. Ah, usa turbine. Il nemico di vento, insomma, d'aria, credo. Ma non siamo messi bene. Cattura! Nooo. Niente, fargli ancora male, allora. Ok. Non di più, però. Ok, dai, proviamo a prenderlo adesso. Nooo, è punti azione! Aspetta, passo il turno. Passo il turno, così guadagniamo punti. Ok. Lui non può. Fini il turno anche lui, così li accumuliamo. E ripariamo dopo, sperando che non ci uccida nel frattempo. Perché... Aia, aia, ok. Dai. Ultima possibilità. Cattura. Preso. Olè. Meno male. Va bene, allora. Cos'è questo? Devo colpirlo? Molto, 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 molto bello. Posso... Vabbè, tanto non uso neanche pozioni, non cerco cose perché probabilmente adesso... No, devo passare di qua. Probabilmente adesso ci sarà un save, quindi... Ok. Nooo. Ok, ce l'ho fatta al pelo. Perché c'è anche la fisica. Non è legnoso, in realtà. C'è proprio la fisica dei movimenti. E non oso immaginare. Aspettate un secondo, voglio capire. Non sto benissimissimo, quindi vorrei usare un tonico per ripristinare la mia salute. Ok. Proviamo a usare le vocazioni adesso contro sto coso qui. Vediamo. Eh, usiamo il suo stesso attacco, quindi sarà abbastanza immune. Però... Bene. Vediamo, vediamo cosa riesce a fare. Evocazioni? Non può? Io passo il turno. Voglio... Riesci a fare tu un'evocazione? No, riesci a evocare solo il cucciolo di raptor? Ma perché non l'ho assegnato? Perché io evoco il cucciolo di raptor e mi fa solo quello. Abilità tenere abbraccio. Lo faccio attaccare. Ok. Par. Mancato. Ok. Fa un attacco solo. No, non riesco a capire... Non riesco a fare evocazioni. Vabbè, attacco va. Non l'ho assegnato probabilmente. Eh, lui non sta benissimo. Adesso finiamo, dai. Sto cliccando come un pazzo. Turbine. No. Boom, boom. Dai, attacca. Ok, finito. No, devo vedere se posso equipaggiarla. Perché... Mi sa che non l'ho equipaggiato. Vediamo un po' equipaggiamento di... No, non boom, boom. Equipaggiamento di lui. Reliquia. Ah, ho il giubbotto da quattro soldi. Posso mettergli. Non ho nient'altro. Evocazioni. Dalt. Gambe lunghe. Perfetto. Non so se me lo dà subito al prossimo riposo, però... Mi sa tanto di zona di boss questa. Ah, si va su? Si va di là, cioè. No. Eh, vabbè, dai. Iniziamo la battaglia. Tre sono. Allora, Dalt. Fai l'evocazione di gambe lunghe. Calcio possente. Otto punti. Ah, usa punti. Ah, uno solo, però. Vediamo cosa fa. Critico. Ne ha tirato giù uno. Evocazioni. Cucciolo di raptor. No. Tenere abbraccio. Vediamo come funziona tenere abbraccio. Ah, ok. Ok, mi ha curato. Sì, giustamente. Allora, si sono potenziati. Mancato. Allora, ognuno poi gli ha assegnato un'evocazione. Perfetto. Dai, attacchiamo allora. Dai, finisci il lavoro. Perfetto. Forza superiore. Dai, attacchiamo di nuovo. Non uso nient'altro. Uso solo questi. Vediamo se riusciamo a farla finita così. Perfetto, sì. Bene. Vittoria. Altri punti esperienza. Livellato. Voglio vedere solo una cosa. Le vocazioni livellano? Teoricamente sì, perché l'han detto prima. Quindi. Io spero che quella raptor mi dia qualche abilità un po' più bella andando avanti. Perché al momento è solo un buff. Io nei giochi non amo molto i buff. Preferisco il danno scatenato. Andiamo di qua. Non so dove io stia andando esattamente. Perché mi pare che stia andando indietro. Però. Sì, infatti. Infatti siamo tornati ampiamente indietro. E non so il motivo. Per cui siamo tornati qua. Vabbè, tanti nemici li abbiamo abbattuti tutti. Sì, si andava di qua. Non ripoppano i nemici. Bello perché il fulcro comunque del gioco è la storia. Sì, eravamo già andati anche di qua. Non so perché. Ah, ok. Si va avanti di qua. Ci siamo arrivati alla città perché la missione era arrivare in una città. E questa è una. Perché poi ci sono città molto più cyberpunk su altri pianeti. Questa è Arcadia. È un pianeta verde. Infatti all'inizio, arrivandoci con l'astronave, si vedeva che era un pianeta tipo la Terra. Guardi di Arcadia. Ehi là, benvenuto ad Arcadia. Se viene in quella relazione significa che sei appena arrivato da Dream Corps. Quindi, di nuovo, benvenuto. Grazie. Se sei venuto da solo e niente famiglia, allora comenta la passi, campione. Molte persone arrivano qui piuttosto sconvolte, ma mi sembra che tu te la stia creando alla grande. Si sta più ingenio perché la famiglia è rimasta sulla Terra. Ascolta, noi adoriamo questo posto. Sono certo che con il tempo lo apprezzerai anche tu. Da qualche parte deve esserci un bel posto che aspetta solo te. E anche belle persone. Va bene. Ok, grazie. Consiglio, faresti meglio stare alla larga dalle zone meridionali della città. Ci abitano persone diverse? Tutto qui. Non è molto sicuro. Ah, grazie. Prendi questo e ti sarà utile. Manufatto con l'ana energetica. Perfetto, nuovo occupamento. Consente di eseguire un attacco in più ogni turno. Bellino. È molto gioco di ruolo. È molto gioco di ruolo. Più gioco di ruolo di tanti altri usciti di recente. Niente, vedete, salviamo. E da quello che vediamo qua... Adesso, la costruzione non ce l'abbiamo ancora. Però vedete che ci sono tre slot, quindi potremmo avere probabilmente anche un altro compagno. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Potrebbe essere veramente una delle rivelazioni di quest'anno per quanto riguarda gli indie. Spero abbiate visto tutto il video, perché sennò sarebbe un delitto. Perché comunque c'è ancora tanto da vedere, eh? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao! 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 Ciao!